Musica Ciao Patriss, benvenuto alla Juventus. Buonasera, grazie. Benvenuto alla Juventus e bentornato in Italia e a Torino perché qui è iniziata la tua avventura nel calcio professionistico se vogliamo. Sì, sì, infatti per me è come il destino. Quando avevo 17 anni l'Italia mi ha aperto le porte per diventare il giocatore che sono adesso. Per me sono veramente un uomo felice oggi e non vedo l'ora di iniziare perché è il destino. Era una cosa normale tornare in Italia e che si è fatta così semplicemente per me è come un sogno. Che sensazione è infatti tornare adesso da campione affermato, da campione che ha vinto tutto e da giocatore della Juventus? È una sensazione incredibile di cominciare tutto da nuovo. Io dal Manchester ho vinto tutto, però l'Evra della Juventus non ha vinto niente per il momento. Allora con una grande umilità, con una grande voglia di lavorare, di imparare anche a 33 anni e di fare delle belle cose. Io sono uno che mi piace vincere. Ho scelto una squadra come la Juve per vincere e io penso che farò il massimo per dare tutto quello che ho per i tifosi, per la società, per l'allenatore e per i miei compagni. Allora grazie Patristi, lasciamo andare. Solo un'ultima cosa, un tuo messaggio, un tuo saluto ai tuoi nuovi tifosi. Io non sono una persona che non vende tanti sogni. L'unica cosa che posso garantire ai tifosi è che darò il massimo con questa maglia perché, come si dice, io per ringraziare le persone non sono con parole ma con i fatti sul campo. Forza Juve e speriamo che vinciamo tanti trofei.